Ecco cosa fare. Non hai bisogno di una scusa per sentirti bene. Se io non ho una scusa per stare bene, mi sento bene lo stesso. Mi piace questa idea, alzate le mani. Quando chiedi a qualcuno, come va? Di solito mi risponde, mi sento proprio una schifezza. Altri dicono, beh, capisco. Guarda come cambia se chiedo a qualcuno, come va? E lui risponde benissimo, come mai? Mi sento benissimo, non so perché. Sono sicuro che porteresti quel ragazzo dallo psichiatra, dicendo quello è matto, ha bisogno di un medico. Quando invece ti risponde da depresso, frustrato e arrabbiato, tu pensi che sia totalmente normale. Questa è la cultura in cui siamo immersi, a prescindere dal paese in cui viviamo. Spesso le persone vengono da me e mi dicono, Mr. Robbins. Io non so cosa succede, ma mi sento estremamente giù. Cosa succede? Se invece una persona mi dice, perché mi sento bene tutto il tempo? Non lo so, forse è il tuo corpo. Oppure qualcuno mi dice, Mr. Robbins, non so perché, ma sono sempre arrabbiato. Lei mi sa dire cosa può essere. Sarà la tua faccia. Abbiamo l'abitudine di utilizzare continuamente il nostro corpo e la faccia in un certo modo. Sì o no? E questo produce delle emozioni. Quando ti trovi in un certo stato, il tuo comportamento amplifica le emozioni. Se sei arrabbiato, fai cose che ti fanno arrabbiare ancora di più. Se sei triste, fai cose che ti fanno diventare più triste. Sei contento e ti fanno diventare più contento. È vero o no? Su, fatemi vedere le mani. Il segreto è quello di allenare il muscolo delle emozioni positive. Entrando in uno stato di benessere totale. E' vero o no? Arrabbiare le emozioni, perché, quindi. E' vero.